di corrado bertoni dalla camera dei bambini teatrini racconto di natale un pastorello del presepe che non riusciva a prender sonno svegliò l'angelo della grotta e gli disse e così tu saresti un angelo certo non vedi ho anche le ali e da dove vieni chiese il pastorello vengo dal cielo e nel cielo ritornerò rispose l'angelo il pastorello alzò gli occhi verso le stelle e disse ma cosa c'è nel cielo nel cielo ci sono le anime dei morti e dei non nati davvero allora hai conosciuto mia moglie e i miei nonni e le mie dieci pecore mangiate dal lupo e gli agnellini che nasceranno te li devo salutare quando torno su chiese gentilmente l'angelo ma il pastorello si era disteso sul muschio e sorridendo si era addormentato